eccoci qua a parlare oggi di un luogo davvero straordinario straordinario non solo per tutto ciò che lega a questo luogo ma anche per la sua storia una storia segnata da uno dei più grandi protagonisti federico ii di sbevia qui siamo in apulia siamo in puglia e troviamo in una distesa pianeggiante anche se qui siamo a 540 metri il castel del monte questo luogo mistico questo luogo straordinario questo luogo sospeso tra storia e leggenda dove il mito le curiosità e tutto ciò che ruota intorno ne ha reso un luogo mistico un luogo che poi tra l'altro è riconosciuto dall'unesco come patrimonio universale proprio per questa sua unione di architettura scienza sapere che è stato così definito come un luogo degno a livello mondiale di essere riconosciuto patrimonio e su questo chiaramente non abbiamo alcun dubbio siamo a castel del monte quindi quindi ci troviamo non lontano da andrea siamo in piena pulia siamo nelle murge e siamo in un territorio federiciano federico secondo di sbevia nato nel 1194 agliesi proprio perché durante il tragitto verso il sud costanza d'alta villa partori e quindi si trovò a nascere cal quasi casualmente in territorio marchigiano il suo viaggio proseguì fino ad arrivare nella puglia la puglia terra che lui stesso ha sempre amato con una terra calma assolata dove poteva erigere tutte le sue fortezze e tutti i suoi van posti federico secondo poi sceglierà palermo come capitale splendida universale e a napoli dove fonderà ricordiamo la prima università laica della storia la federico secondo appunto federico secondo stupor mundi un principe completo un principe che sapeva governare con il sapere dove la scienza la filosofia erano delle componenti fondamentali per migliorare l'armonia dei popoli la grande abilità di federico secondo fu quello di riuscire a coniugare i saperi dei musulmani dei saraceni dei cattolici degli ebrei coordinarsi con loro e ottenere dalle loro conoscenze tutto ciò che serviva per poter amministrare un regno vastissimo dalla germania alla sicilia illuminatore delle arti del bello amava la caccia la falconeria poi vedremo ricorrerà anche e sarà un elemento molto legato anche al castello ma poi è un grande giurista tenete conto che lui amante quindi dell'organizzazione quindi con la costituzione se di melfi riuscì con un corpus iurisi civili se a riorganizzare con le normative del diritto germanico del diritto romano del diritto canonico uno strumento giuridico medievale ma attualissimo federico secondo poi amante del bello ma conoscitore anche delle scienze della zoologia della cosmologia degli astri dell'astronomia la filosofia elemento portante personaggio quindi illuminato il castel del monte rappresenta un po possiamo dire l'immagine di questo personaggio castel del monte è un luogo dove lui non ha mai abitato ma possiamo vedere degli elementi che ci fanno vivere la presenza di federico secondo molto forte in questo luogo e lo vediamo nella sua perfezione geometrica nella sua armonia è un castello ottagonale costituito quindi da otto torri e nello stesso tempo da due piani con otto stanze trapezoidali questa forma ottagonale riporta un po qualcosa di mistico qualcosa anche di che può essere legato a trattati di astronomia e di matematica 8 è un simbolo che è stato sempre legato anche alla figura per esempio della dell'equilibrio cosmico come la rosa dei venti la rosa dei venti a otto è formato da otto petali ma nello stesso tempo anche la ruota 8 sono i cerchi 8 sono i raggi della ruota quindi nello stesso tempo l'ottagono rappresenta una sorta di equilibrio cosmico tra quadrato e cerchio quindi tra la terra e il cielo se vogliamo dargli un significato cosmologico se vogliamo dargli invece un significato possiamo dire più di stato diciamo che la città di gerusalemme è una città a forma ottagonale nello stesso tempo anche la cattedrale di acquisgrana ha elementi ottagonali come lo ha anche san vitale a bisanzio san vitale dei bisantini scusate a ravenna e questi e questi sono elementi che hanno portato probabilmente a riprendere anche quella figura dell'otto 8 come numero perfetto 8 anche rappresenta anche il battesimo quindi un elemento battesimale quindi legato alle acque 8 rappresenta anche la risurrezione se vogliamo dargli un significato anche religioso per il secondo era laico ma molto attento anche al rispetto e al culto dei popoli una sorta di tempio del sole se così possiamo dire se vogliamo rimanere nell'ambito astronomico se vogliamo rimanere nell'ambito pratico probabilmente era un maniero di caccia un maniero di caccia visto che lui amante della falconeria tendeva quindi a costruire un grosso maniero quindi in una zona dove appunto la caccia era privilegiata viste le lande selvatiche dove si poteva quindi esercitare anche l'arte della falconeria tra cui tra l'altro dobbiamo assolutamente citare il trattato sull'arte appunto della falconeria di federico secondo assolutamente ci fa capire assolutamente quanto era avanti anche sotto questo punto di aspetto il il re svebo poteva essere anche una sorta di pensatoio filosofico un luogo magari dove rifocillarsi dopo battute di caccia insomma su questo castello noi abbiamo tantissime versioni ed è difficile dare la vera versione possiamo dire che non l'ha mai abitato ma è anche vero che il figlio manfredi qui lo utilizzò anche come prigione per dei ribelli è anche vero che qui la figlia violante vi si sposò ferdinando d'aragona nel 1495 vi passò e vi sosto prima di essere nominato re di sicilia e incoronato a barletta quindi un luogo che può essere una prigione un maniero di caccia un luogo che può essere un pensatoio un luogo che con questa forma ottagonale da un equilibrio cosmico da un significato che va oltre un significato per il mistico che l'ha tramutato quindi una sorta di leggenda castel del monte vive nel mistero ma anche negli aneddoti tenete conto che nel cortile si narrava che vi fosse un enorme vasca ottagonale in marmo che appunto addirittura sembrava che dovesse contenere il sacro gral che nel medioevo e nelle storie cavalleresche era il calice dove appunto vi era il sangue di gesù cristo ma questa è leggenda come leggenda il fatto che l'architetto poi è negato in questa vasca ottagonale presente nel cortile l'interno è molto particolare si arriva in una sensazione quasi di mistica quasi una sensazione forte di forte mistero e anche i costoloni che reggono le volte i capitelli tutti in breccia corallina i tanti bassorilievi che noi troviamo su scene della caccia bassorilievi dove vi è un fauno con orecchie grandi e troviamo anche una figura un cavaliere ignudo leggendario che ci porta a fasti del passato c'è molta leggenda ma c'è anche tanta storia un luogo che probabilmente era adibito voleva essere adibito anche ad abitazione non l'ha mai abitato ma probabilmente lo voleva essere vista l'architettura certosina e gli ambienti ben rispettati vi sono monofore vi sono bifore molto particolare quella trifora che dà nella landa da lì ammiriamo andria andria è una città molto legata a federico secondo la chiamò fidelis proprio appunto perché era quella città vicino a lui dove appunto nella cripta del duomo di andria erano seppellite due sue mogli e una di queste isabella d'inghilterra e quella trifora da anche fino al mare adriatico da cui addirittura possiamo intravedere l'enorme campanilla cattedrale di trani la pietra utilizzata per castel del monte è una pietra calcarea bianca e rosea proprio della puglia nella stessa città di trani noi possiamo vedere le costruzioni con questa pietra e questa pietra è stata abbinata anche a marmi pregiati i cui tra l'altro molti di questi marmi vennero sottratti da un altro re lungimirante illuminato di cui parleremo in un'altra puntata carlo terzo di borbone che li utilizzò per arredare i giardini della reggia di caserta castel del monte è un luogo mistico quando si arriva si ha la sensazione quindi di essere sospesi nel tempo di vivere la storia di vivere anche questa figura leggendaria di questo re federico secondo è un luogo straordinario un luogo unico al mondo un castello che rappresenta che andava oltre un castello che voleva rappresentare non solo la grandezza fedeliciana voleva rappresentare il fulcro di una terra di castra lucera gravina andria trani per poi scendere fino a bari castelli svevi ma nello stesso tempo andava oltre andava in un discorso di astronomia un discorso di studi siderali un discorso di filosofia e di concetto dove dove anche ecco appunto la forma ottagonale voleva esprimere una sorta di simbologia ben precisa un luogo assolutamente da visitare straordinario grazie ancora per l'ascolto alla prossima puntata grazie a tutti